Allora eccoci tornati qua, Border Knights si prosegue e allora è il momento del primo collegamento di questa sera e andiamo a ritrovare veramente con enorme piacere Massimo Mazzucco, ciao Massimo Ciao Fabio, ciao Paolo, ciao Stefania, ciao a tutti Paolo che è rimasto qua con noi, allora Massimo ovviamente forse come non ti immaginerai ma vorremmo iniziare a parlare con te delle elezioni americane dal tuo punto di vista che ovviamente è privilegiato rispetto a noi per quella che è stata anche la tua esperienza di vita e professionale che idea ti sei fatto su queste elezioni, noi abbiamo sentito un po' di tutti i colori da quelli che dicono non cambia nulla perché comunque sia dietro Trump che dietro la Clinton c'è lo stesso potere oppure no è un personaggio potenzialmente rivoluzionario, bisogna vedere se riuscirà a fare magari quello che vorrebbe fare e abbiamo quelli che dicono è pericoloso, ecco tu come ti poni? Secondo me per analizzare bene il fenomeno Trump dobbiamo tornare all'inizio dell'anno e cioè tornare all'inizio delle primarie perché molto pochi ricordano e qui ancora meno che in America sicuramente le risate grasse che si facevano i commentatori televisivi della CNN, della Fox, anche della Fox che è di destra diciamo repubblicana, quando si è candidato lui, ma proprio risate cioè c'erano le battute negli show comici che adesso c'è anche lui col ciuffo cioè c'erano i 16 candidati più uno col ciuffo all'inizio lui ha praticamente ha dimostrato, ha fatto fuori uno, ha usato una tecnica strepitosa cioè veramente che ti dimostra che è tutt'altro che stupido quest'uomo perché aveva 16 concorrenti a livello maggiore, poi c'erano anche quelli a livello minore c'è quelli che hanno meno del 5% di voto, diciamo di supporto non possono andare ai dibattiti maggiori, ma i dibattiti maggiori erano 17 all'inizio lui ha cominciato a prendere di mira uno per uno ha trovato uno slogan per ciascuno che andava bene Marco Rubio l'ha fatto fuori continuando a chiamarlo Little Marco Little Marco, Little Marco poverino non sa niente l'altro gli continuava a dare del deficiente finché l'ha fatto fuori l'altro dice non capisce niente, l'altro parla troppo piano non c'ha character, non c'ha character, eccetera uno per uno, una settimana dopo l'altra questi cadevano Jeb Bush l'ha fatto fuori con uno slogan semplicissimo gli ha detto è un low energy, è uno che ha bassa energia è vero, cioè questa capacità di cogliere il punto debole dell'avversario che è un po' la grande qualità che aveva avuto anche Grillo nel 2013 quando ha inventato il termine gargamella per Bersani l'ha fatto secco in un colpo solo, cioè basta una parola delle volte se cogli nel giusto ovviamente, non è che puoi dire una cosa qualunque con questa tecnica è andato avanti e hanno cominciato a prenderlo seriamente ma dicevano vabbè, alla peggio, pensi erano i repubblicani a dirlo alla peggio vinceranno le primarie ma contro la Clinton non ci sarà niente da fare perché era evidente, perché la Clinton rappresenta l'establishment rappresenta Wall Street, rappresenta i poteri forti allora tutti noi abbiamo imparato a pensare che i poteri forti sono fortissimi e che quindi vincono sempre questa elezione sua ci ha dato la dimostrazione appunto che i poteri forti sono sì, molto forti ma non sono assoluti cioè se tu, siccome comunque il voto bene o male funziona con i numeri delle percentuali della gente perché tu puoi anche manipolare il risultato elettorale ma solo se sei molto vicino a una soglia del 50% di ciascuno allora puoi spingere in modo che uno diventi il 51 e l'altro il 49 ma se un candidato ha negli exit poll il 56, 57 e l'altro ha il 42 non puoi fare un colpo di mano di 8 punti percentuali perché non coincidono più gli exit poll quindi alla fine la gente vota la democrazia in questo funziona nel senso che i voti e i numeri sono quelli che sono l'ha imparato anche Renzi ultimamente con la questione dei balottaggi contro i 5 Stelle per quanto abbia in mano lui, il ministero degli interni più di tanto non si può fare quindi alla fine il voto conta che cosa ci dice questo voto? che alla fine l'attacco complessivo l'attacco concertato di tutto l'establishment per tutto l'establishment intendo i poteri di Wall Street i poteri delle grandi multinazionali che sono tutti con la Clinton i poteri mediatici che sono tutti asserviti ai poteri forti e quindi fanno da ambasciatore non sono comunque riusciti a scalfire quel sentimento di odio verso la casta americana l'equivalente della nostra casta diciamo la classe politica di Washington e siccome i numeri nella profonda America sono ancora quelli che sono cioè sono ancora almeno la metà è bastato per lui capovolgere due o tre stati fondamentali l'Ohio il Michigan che assolutamente era impensabile che andasse a lui la Florida ed è a capovolto l'equilibrio delle votazioni anche perché ormai immagino che lo sappiano tutti i vostri ascoltatori però il problema il meccanismo un po' distorto delle elezioni americane è che tu per vincere uno stato basta che abbia un voto in più del tuo avversario e vinci tutti i delegati di quello stato per cui non so la California ti dà 55 delegati sui 550 perché è molto numeroso come popolazione quindi se tu vinci di un solo voto o di 100 milioni di voti la California non fa differenza prendi sempre col numero di elettori quindi questo sistema elettorale è molto antico oggi non ha più senso però rimane rimane ancora dal tempo in cui fu inventato tra l'altro è una cosa curiosa spendo un minuto per dirlo perché è storicamente interessante come è nato questo sistema dei delegati quando l'ho fatto la Costituzione americana 200 anni fa non c'erano certo non c'erano i fax nei telefoni non c'era neanche il telegrafo ancora quindi come fai con una nazione così grande larga 5 mila chilometri da una costa all'altra a tenere delle elezioni contemporaneamente in tutti gli stati nello stesso giorno ovviamente e a sapere il risultato in tempo reale non era possibile allora hanno deciso che avrebbero ciascuno Stato decideva le sue leggi di voto chi vinceva uno Stato prendeva un certo numero di delegati che partivano fisicamente per Washington a cavallo in carrozza quello che era tu pensi se tu eri un delegato della California vinceva il tuo candidato per cui tu dovevi andare a Washington a rappresentare il suo voto e partivano e ci vantevano un mese ad andare a Washington ecco perché la conferma reale del Presidente avviene solo il 19 dicembre cioè dopo un mese dalle elezioni il 19 dicembre verrà confermato dai delegati che si impegnano a votare per lui che quindi non faranno sorprese ha confermato che ha vinto il Presidente Trump ovviamente oggi non c'è più bisogno di questa formula anche perché i delegati non viaggiano più fisicamente non vanno più fisicamente a Washington mandano il voto per telefono per il sistema elettronico ma questa abitudine è rimasta e oggi chiaramente comporta un certo squilibrio può capitare come capitò già a Gore nel 2000 e sembra che sia capitato alla Clinton adesso ma non siamo sicuri di vincere il numero maggiore di voti assoluti popolari ma poi di perdere il conteggio dei delegati perché non te ne frega niente alla Clinton di aver stravinto la California quando poi per un punto solo vinci magari l'Ohio allora con un punto in più quello lì lei ha vinto 18 delegati e con un milione di voti sprecati per lei ne ha 20-50 in California comunque tornando al discorso adesso mi sono un attimo perso il filo scusatemi il senso ecco dicevo il senso profondo dell'America cioè l'America degli stati che contano alla fine non sono quelli della East Coast e della West Coast gli stati blu cosiddetti New York da una parte Massachusetts da una parte e dall'altra l'Oregon la California e Washington DC lo stato della costa sono gli stati centrali la grande America è quella lì è quella che appunto i democratici gli intellettuali non considerano mai addirittura li chiamano i flyover people cioè la gente su cui si vola sopra andando da una costa all'altra ma alla fine sono quelli che contano di più e questa gente è talmente profondamente incazzata con appunto con l'elite con gli intellettuali con i media che si sono così apertamente schierati con la Clinton che per reazione quasi hanno voluto fare il dispetto e votare per Trump questa è la mia lettura generale su cosa succederà poi se vuoi apriamo un capitolo dopo perché questa è tutta un'altra storia ovviamente sì intanto qualcuno chiede sta girando l'avrai visto forse anche tu sul web questa foto di un'offerta di lavoro in cui si guadagnerebbe diversi soldi per partecipare ai movimenti contro Trump e qualcuno dice una bufa qualcuno dice non si capisce è una foto in cui c'è questa offerta di lavoro potrebbe averla scritta chiunque teoricamente avremmo potuto farlo anche io a te un tweet un messaggio del genere in realtà anche se questa fosse falsa non mi stupisce assolutamente che con tutti i soldi che questa gente ha buttato dentro per far vincere la Clinton alla fine comunque li paghino cioè c'è una barzelletta addirittura che gira adesso l'ho vista ieri non mi ricordo più su Washington Post da qualche parte che c'è uno di questi qui incazzati per strada che urla come una bestia e il reporter gli dice scusi contro che cosa starebbe protestando lei esattamente contro la democrazia nel senso che ha vinto la democrazia i numeri sono quelli nessuno contesta i numeri perché non c'è come nel caso del 2000 la contestazione della Florida con un voto in più un voto in meno quindi ha perso e basta la Clinton quindi la democrazia ha funzionato benissimo in questo caso ma proprio quelli che sostenevano appunto la democrazia perché Trump è il razzista è il come dire l'oxenofobo il prevaricatore eccetera eccetera adesso non ci stanno credo che siano pagati ovviamente perché ci vuole dare come dire un senso di uno sfogo di qualche tipo a tutti quelli una legittimazione alla sconfitta ecco come dire in realtà anche la Clinton è una che non sa perdere perché ha dato la colpa a Comey il direttore dell'FBI dicendo che ah se non fosse venuto lui l'ultima settimana a tirare fuori questa storia delle email di nuovo avrei vinto io grazie figliola il fatto è che sei tu che te la sei tirata addosso questa storia delle email perché sei tu che hai fatto tutte le porcate che hai fatto con quel cacchio di server in casa tua per quattro anni e hai fatto perché la colpa vera della Clinton cosa che ha colpito molti repubblicani e li ha fatti votare per Trump non è tanto che abbia usato il server di casa cosa che non dovrebbe fare un ministro degli esteri ovviamente non ci vuole un genio per arrivarci ma bene o male lì si poteva ancora perdonare l'ingenuità ma il fatto che quando l'FBI è intervenuta lei ha cancellato 30.000 email dal suo server privato e invece ha dato a dire in televisione o consegnato tutto all'FBI quando è venuto fuori che non solo aveva usato il suo server ma che in più dopo aver avuto la richiesta dell'FBI ha cancellato 30.000 email a quel punto è chiaro che il sospetto di tutti i pasticci che loro fanno con la Clinton Foundation è diventato molto solido e quindi è stato sostanzialmente un voto di odio contro la Clinton che a noi europei fa piacere secondo me almeno a certi a chi la vede come me perché andrà meglio per il mondo intero magari non andrà meglio per gli americani nel senso che loro ovviamente sono destinati a scoprire che adesso Trump non farà assolutamente niente per le classi più povere e disagiate ma agli interessi comunque dei ricchi perché ha quella mentalità lì non è che perché lo obbligano lui non è comprato lui è l'unico presidente a aver vinto una campagna elettorale solamente con i suoi soldi almeno negli ultimi 50 anni ha speso un centesimo credo circa di quello che ha speso la Clinton e quindi ha vinto proprio meritatamente per quello che diceva lui quello che poi farà non lo so e temo che sia talmente inesperto che adesso ha già iniziato a circondarsi di gente dell'establishment calcola che ha messo a capo di gabinetto che è una posizione fondamentale nel governo americano ha messo Reince Priebus cioè il segretario nazionale del partito repubblicano lo stesso partito repubblicano che ha cercato in tutti i modi di fare fuori Trump e che adesso cerca di controllarlo attraverso la scelta del suo capo di gabinetto un'altra scelta fondamentale che è passata molto inosservata ma che secondo me si dimostrerà significativa nel corso del tempo è che gli hanno messo di fianco un vice Mike Pence che non è affatto un governatorino di campagna come sembra bello tranquillo con le sue tradizioni repubblicane eccetera ma è un forsennato feroce effettente neocons della prima ora Mike Pence fu quello che nel 2001 subito dopo l'11 settembre si occupò di mandare su tutti i media la propaganda quando ci fu il caso dell'antracce cioè due mesi dopo l'11 settembre verso novembre scoppiò negli Stati Uniti il caso dell'antracce dove venivano minacciati diversi senatori stranamente tutti democratici stranamente tutti quelli che chiedevano di fare una commissione senatoriale sull'11 settembre che poi infatti non si fece ma fu Mike Pence ad alimentare la teoria che questa antracce venisse da Saddam Hussein perché lui era mandato avanti dai neoconservatori cioè dai neocons da Cheney e da Rumsfeld che avevano bisogno di una scusa per portare la guerra in Iraq e lui faceva quello che diceva che era stato Saddam Hussein addirittura quando l'FBI in uno strano gesto di onestà dichiarò che guardate che questa antracce non viene da fuori è casalinga cioè scappata da uno dei nostri laboratori Mike Pence scrisse una lettera aperta al ministro di giustizia di allora Ashcroft dicendo com'è sta storia che dite che lo sappiamo tutti che è di Saddam Hussein questa roba qui per cui perché raccontate queste cose invece viene poi fuori che appunto era casalinga ma questo ti dimostra che Mike Pence non è affatto un tranquillo governatore di campagna è un mastino da guerra dei neocons e sono certo sono convinto che gliela abbiano messo accanto proprio per cercare di condizionare la sua politica estera perché Trump inizialmente lui è molto isolazionista cioè lui non gli frega niente ha capito benissimo se non altro che il mondo sta in piedi finché c'è un equilibrio e ognuno si fa gli affari suoi tra Russia, Cina e Stati Uniti non si può continuare ad andare a invadere dappertutto come se fossero 40 anni fa però se per caso non se per caso fosse troppo secondo me Mike Pence cercherà sicuramente di condizionare la sua politica estera verso una strategia più aggressiva e infatti temo ho fatto un articolo un po' di tempo fa temo che se per caso Trump si dimostrasse sordo a queste richieste di continuare nelle strategie imperialistiche di invasione del Medio Oriente o gli succede qualche cosa e diventa presidente Mike Pence o comunque in qualche modo riusciranno a convincerlo un po' come convinsero Bush nel 2000 perché io ero presente ho visto la campagna elettorale di Bush nel 2000 e mi ricordo benissimo che diceva le stesse cose di Trump non dobbiamo dobbiamo smettere di fare nation building cioè di andare in giro come dire a costruire le altre nazioni la traduzione del termine vuol dire conquistare in realtà dobbiamo farci più di affari nostri ma dopo che è stato eletto siccome lui era appunto non così gli hanno fatto l'11 settembre gli hanno fatto in casa addirittura c'è un neocons famoso Michael Ledin che in un suo libro ha scritto quando Bush fu eletto nel 2000 pensava all'America poi venne l'11 settembre e da quel momento capì che doveva continuare a occuparsi del mondo intero e lo dice chiaramente facendo capire che gli hanno fatto cambiare la loro idea quindi una cosa del genere potrebbe anche succedere con Trump vediamo fino a che punto sarà forte lui da voler andare avanti nella sua politica di distensione con Putin cosa che per adesso è annunciata ed è già attiva nel senso che si sono già parlati Putin e Trump ieri di persona credo che sia solo il secondo o terzo capo di Stato con il quale parla direttamente quindi le intenzioni da parte sua ci sono se riuscirà se avrà la forza di resistere assisteremo a un attimo di distensione credo nelle guerre che ci sono per il mondo a meno che appunto non lo obbligano in qualche modo a fare quello che lui non vuole fare scusate mi sono un po' tranquillo mi ha chiesto un argomento che non conosco tra poco ti leggo anche alcune domande appena abbiamo annunciato la tua presenza allora Paolo tu che idea ti sei fatto come giudichi anche il modo in cui Trump è stato presentato soprattutto in Italia guarda io la vedo esattamente come Massimo parola per parola quindi non hai una tua opinione si ce l'ho è esattamente quella di Massimo perfetto ma e temi Paolo sposiamoci andiamo a Las Vegas guarda Massimo che un opinionista così non ce l'ha nessuno queste sono opinioni straordinarie vediamo se riusciamo a fargli qualcosa dimmi spesso Fabio mi fa fare l'opinionista mi dice che ne pensi di questo è un'opinione anche quella esatto esatto ma no perché spesso uno non sa che dire quindi in questo caso a parte gli scherzi io l'ho fatto un po' a battuta per mettere l'imbalazzo Fabio ma hai fatto un'analisi molto accurata ovviamente molto più accurata di quella che avrei fatto io senz'altro quindi c'è che posso aggiungere veramente nulla insomma quindi mi sono limitato ad ascoltarti con piacere il mio ruolo in questo caso finisce qua insomma non voglio poi dire la mia su tutto insomma vi faccio tra l'altro Massimo una volta abbiamo fatto uno sketch imprevisto nel senso che abbiamo fatto fita di essere una trasmissione normale e quindi ho cominciato a chiedergli ad esempio del Napoli del calcio no e Paolo rispondeva nei soliti luoghi comuni e poi ci stavano le sue rispose che sono quelle che vanno bene poi per qualsiasi partita e fu davvero esilarante far finta di essere diciamo una trasmissione così normale allora devi spiegare a Massimo perché era esilarante perché io di calcio non sono esatto non ci capisco nulla perché non ho mai visto in vita mia una partita anzi no ne ho viste due una era quando c'ho 14 anni Giulianova Viterbese perché andavo con una con cui ci provavo e ho detto vabbè mi porta alla partita andiamo alla partita quindi questo era il mio obiettivo non me ne fregava proprio niente tant'è tu pensa che io a quell'epoca talmente tanto poco capivo di calcio che a un certo punto me la sono seguita sta partita per vedere che ci trovava sta gente a vedere sti undici uomini mutande dietro a un pallone che si accapigliavano poi al secondo tempo ho detto ma che sta facendo ma sta correndo verso la propria porta dico ma che cazzo fa ma boom quello alla fine segna dico ma ha fatto un autogol perché non avevo capito che avevano cambiato il campo comunque senti a proposito della questione delle mutande gli undici uomini in mutande una volta un americano mi dice ma cosa avete che interesse provate voi in questo calcio a vedere appunto undici uomini in mutande che corrono dietro a una palla e io gli ho risposto c'è sempre più interesse che vedere nove imbecilli in pigiama che prendono abbastonate una pallina effettivamente perché se tu guardi la partita di baseball allora è il peggio del peggio questi nove idioti che stanno e guarda pam cioè vabbè comunque torniamo alle cose torniamo a noi vi voglio chiedere una ripartiamo da Paolo così gli facciamo di che qualcosa mi sono imbattuto casualmente in un uno spezzone anche questo gira no di sgarbi a credo forse linea notte di gai tre che su Trump diceva Hillary Clinton è una criminale di guerra è una criminale di guerra l'hai visto no e Trump merita rispetto ancora non ha le mani sporche di sangue mentre è sicuro che Hillary è una criminale di guerra perché ha ucciso ovviamente non personalmente insomma tramite la politica americana ha ucciso ha fatto guerra eccetera Paolo queste parole di sgarbi che potrebbero essere diciamo se non dette da sgarbi magari condivisibili sono anche queste secondo te usate in modo così comunque sia che lasciano il tempo che trovano proprio perché dette da sgarbi in un salotto televisivo o si può in qualche modo prenderle e essere d'accordo allora io per quanto riguarda queste parole sono d'accordo nel senso che Hillary Clinton è una criminale e lo è non per quello che ha fatto in guerra io ho letto i libri di Katie O'Brien e Mark Phillips nonché alcune cose scritte da altri autori ma diciamo soprattutto quei due che sono più attendibili citiamo questi se no adesso Massimo mi crocifigge se dico quali sono le altre mie fonti su quello che dico però Katie O'Brien e Mark Phillips sono secondo me attendibili hanno scritto delle cose che sono oltre ogni immaginazione per quanto riguarda la Clinton ma anche altri personaggi della politica americana e quindi sono assolutamente d'accordo non sono sicuro che Trump non abbia scheletri nell'armadio è possibile però perché l'America è un paese questa cosa a me piace molto più infatti dell'Italia dove puoi fare anche tantissimi soldi come lui senza essere necessariamente corrotto in Italia è impossibile cioè se arrivi ad avere un polosso economico come quello di certe famiglie e tanti di quei soldi non ci riesci a mantenersi puliti in America sì quindi è plausibile è possibile che Trump sia come dice lui che non abbia le mani sporche di sangue detto questo io sgarbilo un po' diciamo così rivalutato secondo me è il personaggio che alcuni poteri negli anni nei decenni hanno deputato a dire cose molto scomode che erano vere però e che all'inizio pensavo fossero deliri devo dire cioè quando fino a 40 anni sentivo le cose che diceva mi saliva una rabbia che diceva ma perché sto cretino lo mandano via dalla tv perché lo ritenevo proprio un cretino invece poi ho rivalutato le cose che diceva perché le ho capite dopo anni ricordo ad esempio gli attacchi a Vigna che faceva quando incastrò Facciani urlando diceva Pubblico Ministero Vigna lei ha incastrato un essere umano ha capito urlando come un ossesso io dicevo ma questo è pazzo pensavo tra me per non parlare di Caselli quando ci fu l'omicidio del suicidio io dico omicidio perché chiaramente era un omicidio in cui entrava il Pubblico Ministero Caselli e quindi lui Sgarbi urlava contro Caselli per questa storia del suicidio del del carabiniere che si chiamava si chiamava Lombardi ecco qua il maresciallo Lombardi e quindi dopo ho capito e lui era deputato a dire queste cose che erano vere solo che le diceva con un tono che perdeva completamente di credibilità e chi voleva avere una visione imparziale della realtà come me quando avevo 30 anni nel momento in cui ascoltavo Sgarbi immediatamente provavo una sensazione di repulsione per cui chiaramente il messaggio non mi entrava non riflettevo neanche sul fatto che potessero essere vere le cose che lui diceva che ripeto mi parevano deliri negli anni ho capito che invece la sua funzione era quella di lanciare un messaggio quindi quando ad esempio Vigna esagerava nelle sue scorribande per i delitti del mostro di Firenze e si scopriva un po' troppo ecco che esagerava anche negli atteggiamenti in alcune cose veniva richiamato all'ordine dal potere quindi arrivava Sgarbi che urlava queste cose non era recepito dalla maggioranza della gente ma certamente chi doveva recepire perché sapeva le cose come stavano capiva perfettamente il messaggio e così ho capito tante altre cose di Sgarbi devo dire che sulla maggior parte delle cose che ha detto negli anni effettivamente alla fine mi sono dovuto trovare concordi anche in questo caso nella sostanza mi trovo assolutamente concordi assolutamente insomma ripeto io non conosco la vita privata di Trump quindi non so se abbia davvero o no le mani sporche di sangue ma non mi meraviglierei che in effetti non ce le avesse Massimo niente Massimo non ha retto quello che ho detto cioè proprio ah è caduto ah ecco infatti pronto ah ma ci sei perfetto sì scusa mi è caduta per un attimo una linea sì 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 dicevo per ora per ora non gli hanno ancora dato il Nobel per la pace quindi vuol dire che mani sporche non ce l'ha però fa sempre in tempo nei quattro anni di presidenza rispetto a Sgarbi scusa Paolo vorrei chiederti una cosa però tu hai detto non ripeto le stesse parole ma hai detto bene o male è messo lì per svolgere questo ruolo no? sì cioè secondo te quindi lui non è non è autonomo non è sincero quando dice queste cose lo fa per conto terzi o è semplicemente una voce che incarna il pensiero anche di altri? guarda io questo non lo posso sapere ti posso dire quello che ho capito in questi anni del sistema e quindi cosa penso sia plausibile che è diverso dal cosa penso che sia vero io penso che lui abbia una gran parte delle cose che fa che le fa in buona fede ha un carattere irrazionale impossibile da gestire se facesse le cose con calcolo non farebbe quei pezzi da circo che fa rendendosi ridicolo agli occhi di tutta Italia poi conosco delle cose della sua vita privata tramite persone che l'hanno conosciuto e che lo conoscono anche intimamente mi è capitato quindi di farmi un quadro della sua personalità per cui è coerente il suo personaggio pubblico con quello che è il personaggio privato cioè una persona squilibratissima nulla di meglio per chi sta al potere prendere una persona squilibrata metterla in un certo posto sapendo perfettamente cosa dirà e cosa non dirà perché in alcuni casi alcune di quelle persone che dirigono i giochi di cui noi ci occupiamo hanno una tale conoscenza delle persone che hanno sotto di loro che sanno perfettamente se le mandano a fare una trasmissione cosa dirà e come reagirà per esempio ieri sera è andato anche alla 7 a ripetere le stesse cose più o meno dove sarebbe l'interesse del potere uso le virgolette per dire la tua frase di mandare uno così a fare un discorso contro la Clinton quando tutto questo potere è chiaramente palesemente a favore della Clinton beh ci sono persone all'interno che possono aver interesse a dire alla Clinton occhio che noi sappiamo bene che hai le mani sporche di sangue ma vada Massimo che quando si dice così non si intende le mani sporche di sangue per le guerre o l'interesse che c'è nelle guerre si intende altre cose che chi deve capire capisce e quindi gli arriva un messaggio io credo che quegli sgarbi quotidiani non so se te lo ricordi tanti anni fa che c'era tutti i giorni dopo il TG5 se non mi pare se non mi ricordo male quello fosse uno suo spazio che davano sapendo perfettamente che lui avrebbe lanciato certi messaggi apparentemente talvolta sono contrari all'establishment che però sono apparentemente contrari cioè talvolta si dà un messaggio alla persona che sta all'interno del tipo occhio che adesso ti facciamo capitare solamente uno sgarbi che ti urla in questo modo scomposto che tu hai fatto una certa cosa la prossima volta non c'è uno sgarbi c'è un'inchiesta della magistratura che ti incastra ben bene e a quel punto tu non te la capi con un semplice messaggio quindi un po' questo è il sistema e guarda Massimo lo dico anche perché con serenità posso dire che la stessa cosa che ho fatto io per anni forse adesso no perché mi occupo un po' d'altro ma insomma comunque per anni che cosa ho fatto come funzione per qualcuno tramite di alcuni messaggi cioè perché mi hanno fatto dire determinate cose gravissime perché a qualcuno faceva comodo perché per esempio quando ho tirato fuori proprio la storia di Vigna che è quella che più mi ha colpito insomma quella più travagliata per me più tormentata anche per i rischi che ho corso è ovvio che a qualcuno faceva comodo perché qualcuno dice quali rischi sì ma quali rischi corri ma scusa Paolo aspetta fammi dire questo Massimo per bloccare uno come me non è che non ci vuole chissà che basta che un hacker mi hackera il sito e io sono fuori gioco poi se io lo rifaccio me lo riackerano quindi basta una persona che agisca anche anche solo con un metodo così molto dolce e io sono fuori non posso più lavorare perché non avrei gli strumenti per trovarmi un bravo contro hacker che mi impedisca gli attacchi informatici sarebbe troppo faticoso per me perché a quel punto diventa un lavoro a tempo pieno mentre invece il blog è un blog rispetto a ciò che mi dà lavoro e quindi dovrei rinunciare eppure non l'hanno mai fatto anzi sono stato ben coperto dagli hacker anche se non ho antivirus nel computer da anni non ce l'ho è bravo dillo pure trasmissione allora ragazzi stasera tutti addosso al sito di Franceschetti ah no non temo queste cose se anche succedesse però Paolo scusa scusa un attimo tu hai detto hai fatto il tuo esempio però tu non sei stato fermato che è diverso da essere mandato lì a dire una certa cosa cioè tu hai detto sempre quello che pensavi ti è andata di culo oppure ti sei stato lasciato dire le tue cose ma tu hai agito in modo coerente col tuo pensiero e sincero in buona fede invece mi sembra che tu abbia anche io io sgarbi lo vedo anche così cioè io sgarbi lo vedo uno che ha il suo pensiero che tra l'altro è uscilla moltissimo non riesci a resti mai veramente a inquadrare bene appunto come dici tu una personalità chiamiamola sregolata ma non mi sembra di capire che qualcuno lo manda a posto cioè gli permette di andare perché o ti fa comodo oppure la cosa che temo di più io è che in fondo in realtà è innocuo perché un messaggio che parte da sgarbi passa dalla 7 prima di arrivare alla Clinton ce ne vuole sai che cacchio gliene frega loro magari alla Clinton ma ad altre persone sì certo quando le faceva in Italia può darsi che facesse comodo a qualcuno ma siamo sempre nell'ambito di uno che viene lasciato è come quando a me ogni tanto vado alle conferenze e un po' qualcuno mi domanda ma scusi a lei l'hanno mai minacciata l'hanno mai fatto detto niente dico io no per ora no toccandomi sotto il tovagliolo ovviamente però dico penso che sia non perché io faccio comodo a qualcuno semplicemente perché non sono abbastanza pericoloso dannoso da essere disturbato ecco se un giorno io avessi scusa ma questo è un errore di prospettiva allora sgarbi secondo me è in buona fede ma dico sempre secondo me e lo lasciano fare perché sanno quello che farà ma la stessa cosa vale per te e la stessa cosa vale per me tu ti sei occupato di 11 settembre ma secondo te una persona una persona un gruppo di persone che organizza un casino come quello dell'11 settembre alterando e manipolando la realtà a quel livello disumano che tu hai descritto meglio di altri nei tuoi video non ha la possibilità di dire oh sto Massimo Mazzucco ha un po' rotto i coglioni chi è che ci pensa? certo che ce l'hanno e tu il giorno dopo smetti di lavorare perché esatto quindi che succede? che qualcuno ha interesse che tu dica queste cose no non necessariamente o è così oppure come alternativa come dicevo non sono abbastanza pericolosi in fondo chi se ne frega Mazzucco ha 10.000 lettori lascia che faccia tanto non dà fastidio a nessuno anzi quelli si sfogano e quindi lasciali lì che in realtà Mazzucco equivale a tutto non c'è solo Mazzucco è tutto l'internet del cosiddetto complottismo no? per cui lo lasciano via se no lo chiuderebbero tutto non può far comodo a tutti sta storia quindi le alternative sono due appunto una è a me fa comodo quello che dice Mazzucco lasciatelo parlare anzi proteggiamolo cosa che non credo l'altra è molto più semplice ma si lascia che parli tanto chi lo caga allora scusa Massimo ma sto guardando qui i tuoi dati 11 settembre la nuova per l'arbor 120.600 visualizzazioni più ci sono quelli che l'hanno comprata solo per quello l'ha fatto tra un milione se sono in tutti i paesi ma non importa un milione di persone che sanno che 11 settembre è stato un inganno c'è già non cambia niente che vada Mazzucco o no perché dovresti far fuori Mazzucco allora li lasci fare tanto tu controlli i media secondo me il ragionamento di quelli che appunto finalmente tutti e due chiamiamo i poteri forti sta nel controllo della valvola dei media cioè finché la roba sta in internet secondo me è anche un errore perché a lungo termine come dicevi tu perdono ma comunque nel breve medio termine non gliene frega niente perché tanto sanno benissimo che Mazzucco non andrà mai da Bruno Bespa a raccontare che l'11 settembre e se ci va è solamente perché sarà una trappola per essere attaccato da quattro e per venire sminuito non certo per darmi credibilità quindi finché tu controlli i media controlli il grande il pensiero mainstream si chiama mainstream per un motivo molto semplice perché è il mainstream cioè è il flusso maggiore di pensiero che c'è nel mondo noi siamo il minor stream il rivolo minore cioè se esiste questo termine è proprio perché è main cioè è il principale però guarda Massimo quello che dici tu è giusto ma è un livello la realtà è sempre molto più complicata di una sola lettura specialmente per una vicenda così complessa come l'11 settembre o come può essere il tuo blog le ricerche che fai e quelle che facciamo noi quindi un livello di lettura è sicuramente quello c'è uno dei punti di vista ma ce ne sono tanti altri che si intersegano e che l'uno non esclude l'altro allora tu mettiti dal punto di vista di chi ha il potere di poter manipolare qualsiasi cosa no? e sì è vero tu dici tanto basta che controllo i mainstream sì però ci può stare che magari un giorno mentana che si impazzisce e decide di fare il colpo grosso di ascolti e di fare quindi il boom oppure un giornalista che nessuno l'ha potuto fermare fino a un certo punto perché è figlio di Tizio di Caio di Semprone e quindi ha fatto una carriera ma un bel giorno interessandosi a te dice e loro non fanno in tempo a fermarlo magari in 24 ore ma lei verrebbe a fare una bellissima trasmissione sull'11 settembre non rendendosi conto del casino in cui si mette perché nessuno ha la visione globale della situazione in cui si trova e di come funzionano certi poteri quindi il rischio altissimo che esiste per questi poteri è che tu senza che loro riescano a controllare perché non possono controllare tutto un giorno esplode quello che fai o quello che faccio io lascia ti interrompere allora la cosa migliore scusa finisco qua allora la cosa migliore in quel caso è evitare proprio il problema cioè dire fermiamola alla radice non dobbiamo preoccuparci dopo quando questo ci scatena il problema preoccupiamoci bene prima infatti una cosa che io ho imparato in questi anni è che spesso i giornalisti gli avvocati i magistrati muoiono e vengono ammazzati non quando tirano fuori delle notizie ma prima che le tirano fuori certo però scusami hai fatto proprio l'esempio che è successo davvero quello di Mentana cioè tu hai detto il giornalista che a un certo punto decide di fare il botto e ti ascolti e salta all'ostacolo salta fuori dalla rete per dire è successo nel 2006 Mentana mi ha chiamato mi ha dato in onda inganno globale quasi in modo integrale e in effetti ha scatenato un puttiferio il giorno dopo tutta la stampa se non altro quella di destra tra l'altro lui è andato in onda su Matrix a Lusconi quindi diciamo non era certo il manifesto tutta la stampa per bene ma cosa è successo a Mentana cosa ha pensato cosa si mette in testa adesso è dare spazio al complottismo praticamente c'è stata una reazione di tutto il resto della stampa per cui il sistema lo ha comunque zittito gli hanno dato del complottista temporaneo come dire cosa gli è saltato in mente non hanno potuto dire Mentana impazzito però cosa gli è saltato in mente di fare queste stupidaggini lui ha dato avanti si è fatto le sue tre trasmissioni durante l'anno sul 11 settembre poi però alla fine ha comunque pensato bene di richiudere la falla che aveva aperto e di dire praticamente che in fondo no questi complottisti non avevano ragione e se vai a vedere la polemica che c'è stata su Mentana adesso con il quindicennale dell'11 settembre si è preso dei cazzotti da mezza rete perché lui adesso sostiene apertamente che noi non abbiamo mai tirato fuori veramente delle prove sincere quindi è rientrato all'ovile come dire quindi lui l'ha fatto per aumentare le audience e infatti l'ha aumentata l'audience io mi ricordo il giorno dopo che facciamo quella trasmissione che lessi sui quotidiani queste reazioni indiavolate contro di lui lo chiamai al telefono e mi dice ma scusi non sei un po' pentito di quello che hai fatto praticamente e lui mi dice ma che cazzo me ne frega abbiamo fatto 6 milioni di punta di ascolto ieri sera non mi tocca più nessuno quindi lui ha fatto il suo giochino poi però è rientrato all'ovile e continua a fare comunque il mainstream anche se con un minimo di personalità sua ma comunque alla fine ha vinto il sistema cioè alla fine non è passata anche se c'è l'episodio come questo che può succedere giustamente come dici tu non è che lo seguano alla radice perché non puoi se succede intervieni con una come dire la controriforma fai e alla fine dopo un attimo si calma tutto e vabbè c'è stato un attimo in cui in tv si parlava di quello ma oggi nel pensiero mainstream cioè generale della nazione non c'è che l'11 settembre è stato un atto attentato al massimo c'è qualcuno che sa che ci sono dei dubbi quindi alla fine il sistema è in grado di assorbire anche questi fenomeni casuali e imprevedibili io continuo a pensare purtroppo e per fortuna di non essere abbastanza pericoloso più per fortuna che purtroppo lo dico chiaramente perché ci tengo a arrivare alla vecchiaia tranquillamente però continuo a pensare che sia così l'idea che mi lasciano a fare qualcosa perché in fondo fa comodo a qualcuno è un po' troppo contorno è un po' troppo complottista per me questa idea ti va bene così tra l'altro ho fatto ho seguito questa polemica di Sumentana nella sua pagina la storia del web eccetera e quindi effettivamente ho visto che lui proprio si è come hai detto tu è ritornato nell'ovile e ho fatto anche la pazzia ho provato a scrivergli nella sua pagina cioè a mandargli un messaggio privato sai sono quelle cose folli che sai che non avverranno mai però io sono ogni tanto mi vengono queste cose e quindi ho provato a a a invitarlo no a un dialogo proprio sul tema informazione diciamo mainstream informazioni sul web eccetera ho visto che c'è una spunta non so se legge lui direttamente i messaggi o se c'è qualche diciamo filtro qualche collaboratore però il messaggio risulta letto ovviamente non ha dato la minima risposta e quindi rimarrà una cosa di fantasia questo dialogo al quale sarebbe stato bello magari ci fossi è stato anche tu però insomma tu l'altra volta dimmi dimmi no ti dico te lo dico perché l'ho conosciuto bene bene insomma da questo punto di vista ho capito bene la sua mentalità che non è solo la sua l'ho capito quando ci fu a un certo punto uno scambio una volta durante una delle varie trasmissioni sull'11 settembre che facciamo nel 2006 durante una pausa pubblicitaria eravamo io ero a Los Angeles quindi ero sul telefono in linea telefonica e gli dico ma scusa tu Enrico adesso parte tutto ho detto fra noi cosa pensi dell'11 settembre e lui mi disse guarda il tuo lavoro è impeccabile è documentato è fatto bene intanto è vero che l'ho mandato in onda però è una cosa troppo grossa non può essere successa come dici tu cioè alla fine e poi la stessa risposta che mi diede De Aglio il direttore l'ex direttore di Diario che l'anno lo stesso anno di natura credo stava per uscire lui con il DVD d'inganno globale allegato alla alla sua rivista al suo giornale settimanale quello che era e poi fece un viaggio in America comprò il libro dei debunkers di Popular Mechanics tornò indietro cambiò idea e mi disse guarda guarda Massimo il tuo lavoro è impeccabile stesse parole quasi però è una roba troppo grossa non può essere così cioè a me veniva da dire non è che la tua testa che è troppo piccola per concepire una cosa senza offesa cioè abbiamo degli schemi mentali per cui anche io alla fine mi ricordo all'inizio quando ho letto nel 2002 inizio del 2002 le prime cose in internet sull'11 settembre io mi ricordo di aver pensato ma no non è possibile gli americani non si farebbero mai da soli una cosa del genere signori lo ha pensato Massimo Mazzucco la differenza è che cioè tutti questo lo pensiamo la differenza è che tra chi salta con l'ostacolo e vuole andare comunque a vedere fino in fondo e allora sei pronto ad accettare e chi invece preferisce non saltarlo e rimane ancorato alle sue sicurezze in questa è la spiegazione secondo me del perché Mentana adesso è così aggrappato come dire alla difesa della versione ufficiale lui ha vacillato per un attimo le sue certezze sono vacillate ma evidentemente non è attrezzato per andare oltre a questo tipo di struttura mentale per cui io credo che sia tutto comunque in buona fede infatti non gli voglio male per questo anche se mi ha fatto un danno enorme nella parte finale perché alla fine comunque lo fa in buona fede lui crede a quello che dice purtroppo per noi ma bene per lui se non altro allora ti volevo leggere alcune domande che sono arrivate poi ci saranno Massimo anche non so se anche l'altra volta erano arrivate per te ma c'è il maestro di dietrologia che ogni settimana realizza per noi una scheda ma quando ci sono degli ospiti particolari lui compone sette domande e quindi dopo io te le farei sentire vediamo di leggere invece le altre che erano arrivate sul nostro gruppo facebook all'annuncio della tua presenza vediamo allora la prima chiedeva sostanzialmente se il profilo che di trump era passato in italia era in sostanza combasciante con la realtà nel senso che questo ascoltatore chiedeva se questa visione di trump nazista sessista xenofobo è conforme alla descrizione data dai media in america e inoltre se secondo te in un paese che esporta democrazia ci sono manifestazioni contro trump democraticamente eletto e da chi sono promosse beh alla seconda abbiamo già risposto prima nel senso che sì ci sono sono i vari soros tutti quelli che hanno investito un sacco di soldi nella clinton e non gli va giù di vedere perdere sulla prima tu mi domandi se l'immagine che è passata qui è la stessa che è passata sui medi americani lo è per scusa? sì sì è così lo è per forza perché i medi italiani guardano la CNN guardano la Fox non vanno certo a informarsi loro di persona quindi noi siamo semplicemente una brutta copia triste di quello che passano i medi americani che poi quello che hanno passato i medi americani e noi abbiamo riflesso in Italia sia corrispondente al reale non direi fino in fondo nel senso che sono state aumentate enormemente alcuni aspetti del suo carattere certamente deboli ma in realtà quest'uomo ha deciso di per avere il voto di cui aveva bisogno ha dovuto dire tirerò sul muro se no nessuno su quei 17 iniziali lo avrebbe ascoltato se su 17 persone che sono sul palco della prima primaria repubblicana ce n'è uno che dice io tiro su un muro di 4.000 km 3.000 quelli che sono dal Texas fino alla California perché non passa più nessuno è chiaro che lo noti se poi lo farà o no è un'altra cosa se uno dice deporto 11 milioni di messicani illegali che sono in America perché sono tutti corrotti sono tutti criminali portano la droga eccetera eccetera è chiaro che lo noti ed è chiaro che l'unico modo per vincere le primarie repubblicane che poi lo faccia veramente non so già adesso è calato 2 milioni per esempio ha detto beh intanto cominciamo a vedere i primi 2 milioni vediamo chi è di loro che ha un record criminale perché non è che puoi pigliare 11 milioni di persone e sbatterle fuori cioè anche proprio fisicamente non è una cosa fattibile no? devi andare a cercare a prendere uno per uno cioè ci vogliono 20 anni a trovare 11 milioni di illegali quindi quello che ha detto lui è stato esaltato dal mainstream media americano per sottolineare i suoi aspetti negativi senza concedergli il fatto che invece sanno tutti benissimo e lì sta la malafede dei media che alla fine lui non è affatto così come quello che ha detto tutti sanno che bisogna dire certe cose se vuoi vincere le elezioni ma tutti sanno anche che poi queste cose si ridimensionano da morire nel momento in cui entra la Casa Bianca seconda domanda la prima era di Elisabetta la seconda di Eugenio sicuramente Massimo ne parlerà potresti chiedergli il ruolo e il passato di Mike Pence il vice di Trump e poi i rapporti di Trump con Netanyahu allora su Mike Pence abbiamo già risposto sì prima i rapporti di Trump con Netanyahu non credo che esistano e dovrà passare anche da quella ghigliottina sicuramente però ha già ha già praticamente messo le mani avanti dicendo che Gerusalemme deve essere deve essere di Israele e che in fondo ha detto addirittura gli insediamenti israeliani non sono un ostacolo per la pace quindi sai ha chiaramente preso posizione a favore di Netanyahu perché vai a chiederlo a un palestinese se gli insediamenti israeliani nel loro territorio non sono un ostacolo per la pace è il motivo per cui protestano e quindi è chiaro che ha preso posizione da questo punto di vista non credo che abbiano avuto ancora incontri diretti non lo so ma comunque sì ormai la sua posizione su Israele è chiara lì non farà nulla a favore dei palestinesi sicuramente vuoi chiedere che rapporti Trump-Putin se è vero che questo 2 si contrappone a Soros o se è l'ennesima cartina di Tornasole per illudere la massa è quello che dicevamo prima cioè le intenzioni secondo me ci sono perché se no Putin avrebbe detto avrebbe fatto dei discorsi molto più cauti avrebbe detto vedremo poi alla prova dei fatti avrebbe fatto un discorso così invece ha detto chiaramente abbiamo una visione comune per Putin sbilanciarsi in questo modo vuol dire che evidentemente è convinto quindi o Trump ha fatto fesso anche Putin cosa che non credo però oppure evidentemente c'è proprio una posizione diversa però ripeto è una posizione di partenza questo tipo di gara si guarda poi quando c'è la bandiera a scacchi non si guarda pronti via alla fine della gara vedremo quanto sarà riuscito lui e quanto invece lo avranno obbligato o convinto a continuare a tenere l'abbiamo riperso di nuovo forse non lo sentiamo più ogni tanto questa linea che se ne va e che mi sai l'hacker di prima che invece che andare dal sito di Paolo sta manomettendo la connessione di Massimo eh sì 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 allora abbiamo qualche altra domanda da proporre a Massimo che io non sento più infatti è caduto e allora vediamo se riusciamo a recuperarlo eccoci questo è tornato è bella domanda non stavi sentendo? sì però non ricordo adesso la parola precisa perché a un certo punto si è proprio bloccato a metà eh sì riparto Putin ha fatto una intervista proprio la settimana scorsa con una conferenza stampa internazionale nella quale ha spiegato ha preso a sberle in modo metaforico praticamente un giornalista inglese che lo accusava di essere lui a fomentare le tensioni internazionali gli ha detto ma scusi abbia pazienza lei è ignorante o semplicemente ne manca il buon senso o non sa leggere proprio prendere una cartina del mondo noi abbiamo due basi militari all'estero in tutto il mondo di cui una credo non so dove ma assolutamente innocue gli americani ne hanno 150 delle quali 100 sono praticamente tutti attorno a noi siamo circondati da basi americane tutto questo in contravenzione si dice insomma andando contro al trattato del disarmo che avevamo che gli Stati Uniti e i russi avevano firmato e dal quale gli Stati Uniti sono usciti unilateralmente quando è stato eletto Bush quindi sono 10 anni che voi state cercando 12 anni che state cercando di circondarci da tutte le parti con le vostre basi militari di aumentare la pressione e lei viene a accusare me perché abbiamo violato lo spazio aereo della Finlandia di 20 metri un giorno quindi voglio dire Putin è abbastanza attento a quello che è il problema dell'accerchiamento della Nato e se da una parte prendi il discorso di Trump che ha detto in fondo la Nato non è poi che sia questa cosa intoccabile potremmo anche rivedere certi discorsi e prendi in più il fatto che dice che ci vuole un buon equilibrio con la Russia cosa che in questo momento ovviamente non c'è è chiaro che il primo caposaldo è la Siria nel momento in cui Putin e Trump ambe due hanno dichiarato di essere d'accordo sul nuovo principio che il vero primo problema della Siria non è togliere di mezzo Assad come diceva Obama ma è di fare fuori l'ISIS a favore di chi è eletto regolarmente non diciamo democraticamente ma regolarmente eletto legittimamente eletto nel suo paese è chiaro che gli cambierà molto la politica estera quindi credo che assolutamente la futura alleanza tra Putin e Trump ci sia e sia basata su concetti che condividono tutti e due poi vorrei chiedere se ritiene plausibile che per far cambiare gotta a Trump per giustificare atti di guerra da parte di un presidente che sembrerebbe più pacifista ci sarà una false flag clamorosa sì ho anche fatto scusate ho anche scritto un articolo il giorno intitolato ha vinto Trump punto ci sarà un altro 11 settembre punto di domanda perché è proprio lì il punto cioè siccome lui non è chiaramente disposto almeno in partenza a continuare il tipo di guerra espansionistica in Medio Oriente che sta facendo gli Stati Uniti è chiaro che a un certo punto si arriverà al dunque o come ha fatto notare Blondet nel suo articolo di ieri gli americani calano la cresta si arrendono come dire decidono che va bene ok d'accordo non possiamo avere più tutto il mondo come avremmo voluto ma conoscendo sta gente non è gente che si rassegna facilmente quindi temo spero di no ma temo che qualche cosa gli verrà fatto succede anche perché ho sentito una dichiarazione di Bolton l'ex l'ex scusami ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite il precedente che è un neocons scatenato anche lui il quale alle elezioni di Trump ha detto Trump avrà molto dovrà molto confrontarsi con i problemi di adesso fra cui il terrorismo esterno e quello interno quando un neocons manda un messaggio del genere neanche tanto velato al neo eletto presidente credo che il rischio di un altro false flag ci sia sicuramente Gilberto può chiedergli se rifarai i seminari su come costruire dei documentari efficaci come quelli che già circolano in rete solamente un fatto logistico a me piace molto fare chiacchierare di struttura del cinema perché è la mia grande passione abito in un posto dove non sono in una grande città abito come sapete in un paesino della Calabria quindi qui non posso certo farlo se mi capitasse di stare a Roma un certo periodo o a Milano un certo periodo sicuramente è una delle cose che mi piacerebbe fare Alessandra conosce Benjamin Falford e cosa pensa dei suoi scritti parla di una battaglia tra illuminati gnostici che hanno appoggiato Trump e linee di sangue attualmente al potere case reali Rothschild che creano moneta debito Benjamin Falford è uno di quelli che fa parte di una stir per ormai di complottisti rispetto ai quali uno come un azucco impallidisce cioè qui siamo dalle parti di David Icke del controllo mondiale da parte delle sette magari tutto vero magari tutto vero perché solamente uno stupido potrebbe dire che non è vero tutto ciò ma è uno che ha l'abitudine di non non ha mai avuto l'abitudine di supportare con una minima fonte cioè rispetto per dire a Falford Franceschetti è uno documentatissimo che ti dà fonti su tutto quello che c'è perché assolutamente è uno che fa delle grandi sparate probabilmente ha un minimo di fonti sue dalle quali attinge qualcosa il resto probabilmente se lo invento ce lo mette di su anche magari in buona fede io ho smesso di frequentare il suo sito da un bel po' perché ne ho lette talmente tante che poi non si sono verificate fra l'altro che non lo ritengo più affidabile Franco può chiedere cosa ne pensi dei terremoti che si sono succeduti con violenza nel centro Italia se secondo lui sono indotti dall'uomo o sono solo fenomeni naturali mentre sono assolutamente convinto che il terremoto delle miglia di tre anni fa quando è stato nel 2012 sia stato causato non magari indotto intenzionalmente ma causato dall'operazione di fracking in questo caso mi sembra sarò ingenuo ma mi sembra di capire che siano cose assolutamente naturali magari sono come dire sono causate a distanza in modo indiretto da cose che fa l'uomo però non c'è certo l'intenzione di far venire un terremoto in quel posto lì non ne vedo pur sapendo che si può fare si può fare in qualunque punto e credo che sia stato fatto anche molto spesso negli ultimi dieci anni vedi il terremoto dell'Iraq a un certo punto il terremoto in Cina che si è arrivato proprio a un punto molto curioso della storia dei rapporti con gli Stati Uniti cioè con ARP possono fare quello che vogliono volendo però in questo caso non ne vedo un'utilità pratica per andare a causare una cosa del genere sono talmente tante in più le seccature diciamo le difficoltà a cui metti di fronte una nazione rispetto a quello che ne puoi trarre da ricattarla in questo modo non vedo la logica dietro un'operazione intenzionale di questo genere io uso sempre questo criterio cioè non escludo ma niente a priori però prima di tutto mi domando se ci possa essere una logica da parte di qualcuno per far succedere qualcosa apposta se non la vedo rischio di passare per l'ingenuo ma rimango dell'opinione che sia un fatto naturale Folseflux e causus belli costruiti ad hoc abbinati a uno scenario da guerra civile nei prossimi mesi sono un'ipotesi tangibile o certi media enfatizzano un fenomeno che poi si sgonfierà in quanto privo dello spontaneo slancio popolare penso hai già risposto forse a questo sì abbiamo già risposto nel senso che dipende da come si comporta la Trump secondo me cioè ricordate che anche Obama bene o male poverino quando è entrato lì pensava davvero di potersi ritirare dall'Afghanistan ma quello che bisogna tenere presente è questo che le decisioni del Presidente degli Stati Uniti non è che lui si sveglia al mattino telefona in Afghanistan e dice come vanno lì le cose cosa facciamo possiamo venire via sì o no ogni mattina alle 8 o alle 7 il Presidente degli Stati Uniti riceve il briefing sia del capo dell'FBI che il capo della CIA che gli dicono come vanno le cose nel mondo l'FBI lo informa di quello che succede all'interno del paese la CIA lo informa di quello che succede nel resto del mondo quindi se io è chi controlla quei briefing in realtà che fa fare le scelte al Presidente se vai da Obama e gli dici guarda che qui a meno di mettere 30.000 soldati in più ci portano via tutto ci portano via gli alleodotti ci portano via le basi che controllano gli alleodotti ci portano via di nuovo il controllo delle coltivazioni di opio che siamo finalmente riusciti a riprendere se no l'eroina come cacchio facciamo a venderla nel mondo è chiaro che ti trovi un Obama che dopo aver vinto il premio Nobel manda 30.000 soldati in più in Afghanistan ma dipende da quello che gli raccontano quindi in realtà il Presidente è una figura è una specie di tappo di suro che galleggia cerca di galleggiare in mezzo al lago ma sono le correnti che lo spingono da una parte e dall'altra bisogna vedere i veri poteri appunto sono il potere militare industriale sono il pentagono sono la CIA soprattutto in questo caso e quindi sono loro che cercheranno di condizionarlo vediamo come lui per quello parlavo prima di saper resistere alle spinte ecco io fossi stato Obama prima di dire mando altri 30.000 in Afghanistan voglio vedere le prove di quello che mi state dicendo ma sai le prove si fabbricano anche in fretta quindi è facile condizionare un Presidente tant'è vero tornando sempre al mio punto fisso al mio chiodo fisso l'ultimo vero Presidente della storia americana è stato quello che ha cercato di smantellare la CIA proprio perché ha capito che era diventato un centro di potere molto più forte della Presidenza ed era John Kennedy John Kennedy aveva in corso lo smantellamento della CIA ha iniziato licenziando il capo della CIA Allen Dallas per la storia della Baia dei Porci non ha fatto in tempo a finire perché appunto è stato fatto fuori da un'alleanza fra la CIA la mafia cioè la CIA lo ha deciso la mafia ha fatto l'esecuzione e curiosamente a capo della Commissione Warren o meglio nel ruolo più importante della Commissione Warren Johnson il nuovo Presidente ha messo proprio Allen Dallas cioè l'ex direttore della CIA licenziato da Kennedy quindi hanno messo a giudicare che è stato uccidere Kennedy hanno messo l'uomo che era stato più importante che era stato fatto fuori da Kennedy durante la sua Presidenza chi non riesce a capire queste cose dovrebbe dedicarsi ad altro secondo me C'è la possibilità che Trump venga eliminato fisicamente? Secondo me è estremamente rara perché sarebbe molto pacchiana la cosa non c'è bisogno oggi più appunto di far fuori fisicamente un Presidente anche perché ti fermi prima cioè prima di farti fuori ti mandano degli avvisi e quindi se proprio non sei testardo e cocciuto cioè i due Kennedy sapevano che sarebbero morti tutti e due lo sapevano non gliene fregava niente hanno deciso di fare come dire i fighi e andare fino in fondo perché loro avevano una certa mentalità di famiglia che le cose si fanno in un certo modo si fanno bene e basta ma non credo che ci siano stati altre persone così testarde che di fronte agli avvisi che a un certo punto ti arrivano non siano disponibili a cambiare idea cosa cosa chi e perché chiede Silvia hanno portato al successo la candidatura di Trump scalzando la rivale se è possibile far luce anche sulla figura politica di quest'ultima eh vabbè cacchio far luce sulla figura politica della Clinton guarda vale la sintesi stramparata che ha fatto sgarbi cioè alla fine è una guerra fondaia con le mani sporche di sangue calcolate che nelle varie email che sono venute fuori c'è il legittimo puoi trarre il legittimo sospetto che la famosa operazione di Benghazi dove morirono l'ambasciatore più altri tre quella che ha messo in crisi la Clinton praticamente come ministro degli esteri c'era dietro il sospetto traffico di armi gestito dagli Stati Uniti per mandare armi dalla Libia in Siria per aiutare l'insorgenza e per rovesciare Assad quindi questa è la Clinton è un ingranaggio del potere del complesso militare industriale e se avesse vinto lei ragazzi cioè a me qualunque cosa farà Trump sarà sempre un decimo dei danni che avrebbe potuto fare questa donna questa è la mia posizione e difficilmente cambierà da oggi a domani da oggi al futuro la prima parte della domanda era scusa cosa ha fatto vincere Trump abbiamo già detto l'America profonda rurale ignoranti come li chiamano i vari come lo chiama Severnini quando è andato a spiegare la Brexit ha detto perché in fondo hanno votato degli ignoranti peccato che gli ignoranti continuano esattamente come gli intellettuali e quindi alla fine hanno vinto proprio per i numeri l'America rurale l'America che non ha voglia di sentire parlare di tutte queste cose dell'impero che ha voglia semplicemente di star bene di vivere bene e di vedere più protezionismo verso il loro lavoro che scappa da tutte le parti ci sono delle aree di depressione negli Stati Uniti depressione economica niente confronto a noi ma per loro sono mostruose rispetto a quello che erano abituati sul fine degli anni 90 calcolate che per capire bene la domanda era come si interpreta bene l'elezione americana allora in tutti gli stati anche negli stati blu cosiddetti cioè democratici a prevalenza il voto rosso cioè repubblicano è tutto nelle campagne il voto blu cioè democratico è quando dico tutto diciamo 90% 90% nelle grandi città la battaglia si gioca nei cosiddetti suburbia nelle zone intermedie fra la campagna e la città perché è la zona dove si mischiano appunto gli intellettuali della città che votano in maggioranza democratico e il fra virgolette il contadino che invece vota in maggioranza repubblicano è lì che si svolglie nelle contee che stanno attorno alle città cioè praticamente nessuno dei candidati è andato a fare discorsi nelle grandi città e nemmeno nelle aperte campagne hanno scelto tutte quelle contee intermedie che sono quelle che fanno cascare il voto a favore del democratico o del repubblicano magari per una decina di voti soltanto quindi è la vittoria dell'America rurale purtroppo più retriva ma comunque voglio dire hanno diritto di vivere anche loro non è che siccome sono più ignoranti detto alla Severnini non hanno diritto di votare loro sentono così hanno sentito un distacco totale dalla politica di Washington che non si occupa più di loro e hanno votato uno che pensano erratamente credo che farà i loro interessi questa è l'analisi secondo me detta proprio in soldoni Davide chiede se Trump riaprirà l'indagine sull'11 settembre come si comporterà con Assange questa è una cosa sono due cose diverse rispondo prima Assange perché è facile mi sembra di capire che c'è stata una cosa curiosa proprio ieri è uscita la notizia che il governo svedese cioè scusa la magistratura svedese ha accettato perché sono loro che accusano Trump di molestia di scusa che accusano Assange per cui sono loro che vorrebbero portarlo in tribunale per poi ovviamente fare di restradizione negli Stati Uniti finalmente hanno accettato di interrogarlo nell'ambasciata equatoriana quindi sembra quasi che sia un primo passo verso il disgelo e che quindi Assange in qualche modo vada ad incassare il fatto che ha aiutato moltissimo Trump tirando fuori le mail contro la Clinton la prima domanda era scusa sulla serie apricare l'indagine sul 11 settembre questa è una voce che gira che ha eccitato molte persone in rete perché Trump ha detto alcune cose rispetto all'11 settembre che fanno chiaramente capire che lui non crede alla versione ufficiale ma purtroppo è circolata una notizia non vera e io invito e insisto tutti sempre quando leggete specialmente notizie di questo tipo andare a cercare la fonte originale non accontentatevi di un sitarello qualunque IB Times piuttosto che non mi ricordo come si chiamano questi siti che ormai sono siti di disinformazione sistematica dove diceva la notizia che Trump ha detto appunto io non posso credere che tre aerei buttino giù due grattacieli che è uno slogan classico del movimento per la verità 11 settembre per cui vorrò dirci più chiaro vorrò riaprire le indagini non è vera questa notizia non l'ha mai detto c'è un modo molto semplice di verificarlo pensa solo se Trump avesse detto una cosa del genere se non sarebbe prima di tutto avremmo il video rimbalzato su 3000 account di Youtube che tutti se lo rimbalzano la vicenda invece questo video curiosamente non c'è non c'è la notizia e soprattutto i media mainstream avrebbero reagito ne avrebbero approfittato per dargli il complottista come si fa addirittura a eleggere uno che non crede nemmeno alla versione ufficiale dell'11 settembre che quindi crede che siamo stati noi lo avrebbero usato immediatamente contro di lui non è successo la verità è che Trump ha espresso alcuni dubbi sull'11 settembre ma in modo molto cauto e molto trasversale appunto perché non è stupido è come Beppe Grillo Beppe Grillo lo sa benissimo che l'11 settembre non hanno fatto 19 islamici armati di taglierini ma è assolutamente saggio nel non dichiararlo pubblicamente perché verrebbe immediatamente utilizzato contro di lui quindi ecco casomai per tornare al discorso di Paolo sono loro quelli che non possono dirlo che lasciano a noi complottisti che non abbiamo niente da perdere per queste verità ma comunque non sono i poteri forti in questo caso però appunto Trump non ha mai detto non riaprirà assolutamente niente perché non ha nessun bisogno di andare a verificare cose nel momento in cui comunque lui è stato eletto presidente credo che quando ha fatto quei messaggi e quando ha lanciato quei discorsi dicendo appunto dei dubbi e poi li ha usati soprattutto in modo elettorale cioè per esempio ha detto ragazzi non si può leggere uno come Bush quando suo fratello era quello che si è fatto fare l'11 settembre sotto il naso ecco questo lo ha usato lui come dire uno come Bush è peggio dell'altro quindi non leggiamolo nemmeno e con questa con questa frase ha fatto fuori il Jack Bush ma non è che per questo ci ha detto guardate che la versione dell'11 settembre è falsa non lo farà mai perché perderebbe immediatamente ogni credibilità a livello mainstream e poi c'era una domanda invece sul tuo documentario Cancro le cure proibite Marco chiede mi risulta contenga alcune bufale verificate con ricerche in anni successivi a quando è uscito gli risulta che qualche errore sia stato commesso nel riportare le informazioni sui medici alternativi e sui loro pazienti effettivamente curati di cui parla nel documentario e a questa poi c'è una seconda domanda invece di Laura e si ritiene di doverlo aggiornare o farne uno ex novo che tratti l'argomento in modo più distaccato è meno enfatico guarda se questo signore ha delle informazioni di bufale che sono uscite nel mio documentario me le segnali perché finora nessuno si è preso il disturbo di segnalarmele io ho verificato tutte le informazioni storiche che ho dato nel documentario fra l'altro io non sono un dottore quindi ho dovuto informarmi prima di fare quel documentario non è che l'ho fatto così perché già sapevo le cose tutto quello che ho messo l'ho messo perché l'ho scoperto facendo delle ricerche storiche non mi risulta di aver fatto errori dal punto di vista storico né certamente di bufale sai quando uno comincia a parlare di bufale ti viene subito il suo aspetto che sei uno di quelli che cercano di attaccarti per il caso Simoncini perché ho difeso Simoncini eccetera eccetera però voglio dire tu hai una radio tutte le settimane se questo signore vuole farti sapere con precisione di quale bufala si parla sono pronto a rispondergli alla tua trasmissione quando vuoi tu benissimo l'altra domanda era se non ritengo il caso di aggiornarlo in realtà già mi pesava molto aver dovuto lasciare fuori certe cure perché è già un documentario di oltre due ore e altre cure non ce ne stavano mi sarebbe piaciuto affrontare la cura di Bella che ho dovuto lasciare fuori mi sarebbe piaciuto approfondire di più Hammer che mi sono trattato con un capitoletto di pochi minuti però insomma il messaggio generale del film mi sembra che sia valido ed è quello che ogni volta che un dottore scopre quello che potrebbe essere una cura alternativa valida ma è basata su cose naturali automaticamente il sistema l'oncologia mondiale la respinge per motivi che sono ovvi a chiunque motivi economici perché c'è più interesse a che il cancro rimanga una malattia che venga curato veramente questa è la tesi del film e non credo che si possa né aggiornare né cambiare insomma è lì da vedere allora adesso in chiusura ti farei ascoltare queste sette domande del maestro di dietrologia una risposta per una sì una per una te le faccio ascoltare una per una e poi ovviamente rispondiamo chi è questo personaggio scusa ha un blog che si chiama cioè lui si chiama in arte maestro di dietrologia quindi il nome ovviamente e niente ogni settimana lui ci confeziona una scheda che ci arriva che noi mandiamo in chiusura in cui analizza dal suo punto di vista quello che accade quando però ci sono ospiti insomma di un certo livello compone queste sette domande è un po' come il signor nessuno di Paragone non lo so perché non lo guardo Paragone ah ok allora sentiamo un attimo bentornati cari naviganti di Border Night questa sera la mia scheda è dedicata a Massimo Mazzucco ho realizzato sette domande calde calde sulle recenti elezioni USA e sulla vittoria di Trump non senti? un saluto ed un ringraziamento anticipato a Massimo Mazzucco domanda no no non le stavi sentendo aspetta riproviamo di nuovo bentornati cari naviganti di Border Night questa sera la mia scheda è dedicata a Massimo Mazzucco ho realizzato sette domande calde calde sulle recenti elezioni USA e sulla vittoria di Trump un saluto ed un ringraziamento anticipato a Massimo Mazzucco domanda numero uno siamo sicuri che i media americani fossero così sicuri della vittoria di Trump? possibile che abbiano sbagliato tutti i sondaggi o c'era un disegno dietro a questo vistoso errore mediatico? puoi rispondere? non ho sentito niente ho sentito zero assoluto ah ecco benissimo allora te le ripeto io va bene? così facciamo se no si fai dicila tu non ce l'hai scritta? si si ce l'ho anche scritta siamo sicuri che i media americani fossero così sicuri della vittoria di Trump possibile che abbiano sbagliato tutti i sondaggi o c'era un disegno dietro a questo vistoso errore mediatico? ah e questo sarebbe il maestro di dietrologia? si che mal di pancia con questa storia che c'era un disegno calcola che guarda che una cosa pazzesca nelle settimane prima il famoso disegno che tutti propagandavano era ma si si vede chiaramente che Trump è stato messo lì apposta per far vincere la Clinton questo era il mantra quindi adesso che invece questo qui sconvolge il tavolo e capovolge tutto adesso c'è un disegno per far vincere lei ma per far vincere lui cioè io questa cosa del disegno veramente non ne posso più è una cosa che non reggo allora posso intervenire un attimo? non c'è nessun disegno li ha fottuti e il voto elettorale americano funziona in modo che appunto è molto difficile prevedere gli stati in bilico perché basta un voto in più da una parte o dall'altra per attribuire 18, 20 o 25 delegati quindi ci sono caduti nei sondaggi anche perché credo che il voto di Trump fosse anche in parte un voto cosiddetto nascosto cioè molti volevano votare per Trump ma non lo dichiaravano nei sondaggi per cui alla fine non hanno tenuto conto di questo fattore e questo ha capovolto quei 3 o 4 stati che sono stati fondamentali per lui Paolo posso intervenire? vai allora guarda Massimo c'hai ragione anche tu anche io non sopporto cioè paradossalmente perché poi sono diciamo un complottista doc ma straconvinto e non sopporto queste analisi questo è vero perché mi ricordo benissimo questo mantra che tu hai detto prima delle elezioni in cui si diceva ah hanno messo lì Trump così vince la Clinton che è il peggio possibile e me lo ricordo perfettamente io sono convinto che ci sia un disegno ma il problema è che sono anche convinto che noi il disegno non lo riusciamo a vedere perché cioè diciamo la gente che fa questi disegni non è così stupida da farteli vedere tutti a volte può intuirli posso intuire il disegno che può esserci dietro a magari lasciare aperto un blog come il mio come il tuo e non ne avrò mai la certezza si sta parlando solo di ipotesi figuriamoci quanto posso intuire il disegno di un presidente americano che andava a dire le elezioni così cioè potrebbe esserci qualsiasi scenario qualsiasi disegno se davvero c'è un disegno ecco infatti anche io non lo sopporto diciamo il grosso difetto dei complottisti è che siccome c'è un disegno ovunque allora lo vogliono sempre vedere questo disegno purtroppo bisogna solo stare i fatti quando e quando mi dicono ad esempio ma questo papa secondo te dove vuole arrivare qual è il disegno e che ne so io posso solo stare alle dichiarazioni che il papa fa per fortuna già non ti dicono che è stato messo lì per qualcosa perché di solito è stato messo lì per che è la dietrologia più pessima che esiste capisci cioè guardi cosa succede e poi deduci a posteriori che quello è stato accaduto per e perdi però l'analisi anteriore di tutti i fatti come dici tu reali cioè c'è tutta la storia di queste elezioni se la guardi in ordine cronologico è perfettamente logico che sia successa così non c'è nessun messo lì affinché o fatto in modo che sono i fatti che delle volte ti scappano di mano e quando scappano di mano come abbiamo fatto prima l'esempio di Mentana appunto stai tranquillo che purtroppo il sistema interviene e di solito ci mette una pezza ma da lì a dire che adesso addirittura è stato messo lì apposta cioè allora fino a ieri avevi pazienza era dato per perdente assoluto pensa che a dieci giorni delle elezioni prima che come riaprisse le indagini dell'FBI la Clinton era talmente sicura di vincere che aveva cominciato a dire adesso io devo cominciare a fare campagna elettorale down ballot cioè nella parte inferiore della scheda elettorale dove ci sono tutti i governatori e i senatori che hanno bisogno del mio aiuto come dire io addirittura non ho più bisogno di me per me è già vinta adesso mi dedicherò a fare campagna elettorale per il down ballot cioè la parte più bassa della scheda elettorale perché gli americani non sono stupidi come noi che facciamo un referendum per ogni cosa quando si vota mettono tutte le cose per cui devono votare insieme per cui c'è dentro anche la legge per la marijuana i senatori i governatori e i sindaci tutto quello per cui si può votare in quel momento lo usano insieme nella stessa elezione perché loro risparmiano soldi contrariamente a noi che ne spendiamo in più per fare le elezioni ma a parte quello era talmente convinta allora dove finisce questo disegno che è a favore di Trump quando questa era talmente convinta che si dedicava ai senatori dell'Oklahoma e del Nebraska che ha fatto tra l'altro un errore di presunzione mostruoso che ha pagato carissimo perché pare proprio che non essere andata negli stati in bilico negli ultimi dieci giorni sia stato quello che le ha fatto perdere quel minimo di margine che ha dato poi il voto a Trump comunque abbiamo già detto queste cose seconda domanda seconda domanda tu non la sentirai poi te la ripeto io avanti domanda numero due la working class che avrebbe sostenuto Trump siamo sicuri sia progressista e di sinistra o ha fatto una critica da destra alla Clinton quindi meno tasse meno stato sociale basta esperimenti di sanità pubblica non andiamo paradossalmente in una direzione ancora più liberista ma questa volta salutata come cambiamento accettato dal popolo allora ti perdi un sottofondo meraviglioso allora la working class che avrebbe sostenuto Trump siamo sicuri sia progressista e di sinistra o ha fatto una critica da destra alla Clinton quindi meno tasse meno stato sociale basta esperimenti di sanità pubblica non andiamo paradossalmente in una direzione ancora più liberista ma questa volta salutata come cambiamento accettato dal popolo ma questa domanda parte dal presupposto che la working class è un termine molto ampio per dire che è stata lei a dare il voto a Trump cioè i messicani sono working class ma hanno votato Clinton nella maggior parte sono i white collar quelli che hanno dato il voto a Trump cioè gli impiegati la classe media la classe media dei bianchi americani chi gli ha dato il voto forse perché stufa appunto sai il motivo per cui dai il voto e il motivo per cui lo ricevi sono due cose diverse io ti posso dare il voto perché sono convinto appunto che tu farai il muro contro i messicani che poi invece tu prenda quel voto e ne faccia qualcos'altro purtroppo è un problema che si ripete quasi a ogni elezione ma non si può fare un discorso così generico questa qui direi che è una domanda nulla non si può rispondere anche perché posta male non è la working class che ha eletto Trump in termini così generici numero 3 domanda numero 3 ci sarà probabilmente un effetto domino dei vari partiti populisti in tutta Europa questo fenomeno come cambierà le sorti della globalizzazione ci sarà un ritorno ai vari nazionalismi o si verrà a creare un'Europa ancora più repressiva e militarizzata un euro 2.0 allora ci sarà probabilmente un effetto domino dei vari partiti populisti in tutta Europa questo fenomeno come cambierà le sorti della globalizzazione ci sarà un ritorno ai vari nazionalismi o si verrà a creare un'Europa ancora più repressiva e militarizzata un euro 2.0 questo chiamiamolo anche se impropriamente il ritorno dei populismi c'è già è già in corso e non c'era certo bisogno della vittoria di Trump per scatenarlo sicuramente sarà rinforzato nel senso che tu vedi i vari rappresentanti di questi partiti Le Pen Salvini eccetera che naturalmente cavalcano questo voto perché vogliono dargli l'interpretazione antisistema Grillo è stato molto cauto hanno cercato in tutti i modi di appioppare anche a lui una simpatia per Trump per poi in qualche modo cercare di affossarlo dicendo che anche lui è populista è un gioco di parole in realtà quello che sta succedendo in Europa sta succedendo comunque da prima cioè ci si è resi conto ormai anche a livello istintivo di pancia che questa organizzazione non serve non esiste non fa comunque gli interessi dei vari popoli fa gli interessi dei banchieri da quando le varie nazioni hanno capito che gli interessi centralizzati sono più forti degli interessi nazionali l'Europa è iniziato a morire Trump o non Trump è destinata a finire comunque questa Europa così come la conosciamo non so se la salveranno in qualche modo e comunque non credo per rispondere alla seconda parte della domanda che ci sarà un effetto di repressione perché non ci sono le condizioni per metterlo in atto cioè c'è talmente un malcontento verso l'Europa che anzi devono stare molto attentini a viaggiare con i piedini delicati perché se appena pestano un po' troppo il piede gli si ribalta tutto contro quindi non credo che ci sarà una forma di repressione di tipo poliziesco o 2.0 di cui parlava prima ci sarà una lenta estensione con un tentativo di trasformazione in qualche cosa che sopravvive e che sinceramente non so descrivere staremo tutti a vedere cosa sarà esattamente domanda numero 4 Soros si è dichiarato il nemico giurato di Trump siamo sicuri che questo miliardario abbia a cuore le sorti della democrazia o più semplicemente gioca su più tavoli come ha sempre fatto avendo in passato finanziato anche i repubblicani Soros si è dichiarato il nemico giurato di Trump siamo sicuri che questo miliardario abbia a cuore le sorti della democrazia o più semplicemente gioca su più tavoli come ha sempre fatto avendo in passato finanziato anche i repubblicani ma per piacere dai facciamo delle domande quando mai un miliardario ha avuto a cuore la democrazia ma neanche nei film di Walt Disney domanda numero 5 Mike Pence uomo della CIA dei Bush famoso per lo scandalo Antrace come annunciato sarà l'uomo ombra di Trump cosa significa questo nella politica estera statunitense? Mike Pence uomo della CIA dei Bush famoso per lo scandalo Antrace come annunciato sarà l'uomo ombra di Trump cosa significa questo nella politica estera statunitense aspetta Massimo vai 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 pure vai teoricamente non significa niente perché il vicepresidente non ha nessun compito istituzionale naturalmente abbiamo imparato da Dick Cheney che si fa molto in fretta a prenderti comunque i compiti istituzionali anche se non li hai per esempio in una certa data l'11 di settembre mandi via il presidente eletto Bush lo mandi in Florida a visitare una scuola e in quelle ore cruciali controlli tu dal bunker della Casa Bianca tutto quello che succede per esempio è stato Cheney non dimentichiamolo mai a dire che non andava abbattuto l'aereo che si stava dirigendo su Washington e che poi ha finito per colpire il Pentagono quindi volendo i poteri te li prendi ora però ripeto in una situazione normale di gestione normale di normale amministrazione il vice non ha nessun potere nemmeno quello in teoria di consigliare perché se Trump se il presidente non ti chiama nell'ufficio ovale tu non è che tutti i giorni lo vedi o puoi consigliare tant'è vero che infatti Joe Biden era abbastanza frustrato nei primi mesi di presidenza Obama perché proprio non lo chiamava mai finalmente dopo ha pestato i piedi e si è fatto un po' più ascoltare nel corso degli anni però chiaramente dipende sempre dagli eventi esterni se ci sono degli eventi esterni allora a quel punto o il presidente diventa incapacitato e quindi subentra il vice in piena funzione di presidente oppure comunque lo si consiglia in maniera molto più vigorosa e magari si riesce a fargli accettare qualche scelta ripeto è una possibilità dobbiamo vedere come si metteranno le cose secondo me dipende tutto dall'equilibrio che lui riuscirà a trovare con Putin se è soddisfacente comunque per i pentagoni per gli americani allora non succederà niente se invece fa qualcosa è troppo smaccato a favore dei russi ci sarà una controreazione e in quel caso ne vedremo delle belle le ultime due domanda numero 6 l'Ucraina tornerà sotto l'orbita di Putin o sarà ancora terra di conflitti sostenuta dagli USA l'Ucraina tornerà sotto l'orbita di Putin o sarà ancora terra di conflitti sostenuta dagli USA a giudicare invito tutti a leggere l'ultimo articolo di Blondet che ho ripubblicato anche io oggi sul luogo comune a giudicare da quello che dice Blondet gli americani hanno già praticamente mollato l'Ucraina gli hanno detto arrangiatevi non vi supportiamo più non so da che livello esattamente sia arrivato questo messaggio ma pare che ci sia una terza tendenza a dire vabbè vada via abbiamo perso e quindi non possiamo più continuare in questo braccio di ferro in realtà l'Ucraina alla fine se tornasse come prima tornerebbe esattamente ad avere quello che aveva prima che tutto fosse iniziato e cioè un presidente pro sovietico che stava delicatamente in equilibrio fra le due potenze sono stati gli Stati Uniti non dimentichiamolo mai a forzare la mano favorendo la rivoluzione colorata che poi ha fatto appunto apparire i pro russi come dei reazionari ma in realtà loro stavano già avevano loro scelto e letto tranquillamente una presidenza che era molto equilibrata da questo punto di vista sono stati americani cercando di sbilanciarla proprio a favore alla peggio si torna come prima alla peggio alla meglio per loro si torna esattamente come prima domanda numero 7 con un governo USA a netta maggioranza repubblicana i paesi del BRICS ne trarranno vantaggio o saranno dei competitor pericolosi un saluto da maestro L'ultima dice così con un governo USA a netta maggioranza ripubblicana i paesi del BRICS ne terranno vantaggio o saranno dei competitors pericolosi dunque dal punto di vista economico è andato di nuovo c'è stata questa caduta sull'ultima domanda del maestro che ha scelto una base questa settimana a mio modo di vedere radiofonicamente eccezionale cioè con questa base potresti leggere qualunque domanda che ti tiene lì proprio intenzione mi piace mi piace è una bella scelta del maestro di solito a livello di sottofondi allora vediamo se Massimo ritorna rapidamente come è accaduto prima di solito sono disconnessioni così molto rapide e poi Massimo si rimaterializza improvvisamente forse Paolo tu sei sempre materializzato ti vedo sempre con questo fermo immagine che è il capo leggermente chino e stai guardando non so se stai guardando la tastiera o cosa Massimo eccolo allora io ero rimasto a metà dell'ultima risposta poi tu hai cominciato a parlare della base musicale mi sentivi perché non ti abbiamo più sentito praticamente fin da subito quindi se vuoi ho cominciato a dire dal punto di vista economico è difficile prevedere sì ok parto da lì sì ok dunque dal punto di vista economico è molto difficile prevedere quello che succederà adesso a livello internazionale perché è vero che Trump ha dichiarato di voler fare molta più protezione di avere una forma di isolazionismo e anche di tariffe doganali più alte insomma per favorire l'America ma ricordiamoci una cosa che lui ha è vero che ha la cosiddetta maggioranza assoluta cioè la super majority perché ha la maggioranza in Senato alla Camera e alla Presidenza ovviamente che sono le tre le tre forze diciamo che votano per far passare le leggi e che devono sempre essere tutte d'accordo però è anche vero che al Senato lui non ha 60 senatori che sono sufficienti a superare il filibuster cioè l'ostruzionismo da parte dei democratici se lui avesse 60 senatori al Senato allora può fare veramente quello che vuole può fare anche impiccare i messicani tutti lungo le strade di New York e nessuno può dire di niente in realtà ha 51 senatori cioè la maggioranza di uno ma non ha quella assoluta vera e propria quindi qualunque cosa che sia troppo contraria ai democratici i democratici hanno già detto noi faremo istruzionismo e il filibuster nel Senato americano può veramente bloccare la nazione non è che mai da noi che c'è l'oratore che parla 15 ore finché gli finisce la saliva e dopo va a casa comunque si vota lì i filibuster può andare avanti anche dei giorni possono veramente bloccare una legge se non la vogliono ed è esattamente la cosa che fecero i repubblicani nei primi due anni di Obama quando Obama aveva la maggioranza assoluta lui purtroppo si è sprecato con i due anni magici per far passare la legge sulla sanità e l'ha buttati tutti lì ma anche perché i repubblicani gli avevano detto stai attento che qualunque altra cosa tipo A, B, C e D che adesso non ricordo non te la faremo comunque passare perché noi ci mettiamo il filibuster quindi non ha la maggioranza assoluta ma non ha il potere assoluto questo diciamo per fortuna la democrazia ancora in qualche modo prevede qualche valvola di salvezza ripeto dipende tutto da come lui imposterà le sue le sue politiche reali dal 21 di gennaio fino ad allora sono solo speculazioni che possiamo fare Massimo io ti ringrazio tantissimo per essere stato ancora una volta con noi per farci capire meglio quello che accade e ti seguiamo sempre sul luogo comune insomma in tutte le tue attività grazie davvero grazie un saluto a tutti a presto ciao ciao Massimo